Fare i conti con l'ambiente, siamo con Antonio Pergolizzi, si è appena concluso il LabCamp, momento di incontro, confronto con giornalisti, vari temi, vogliamo fare un bilancio con te. Sì, è sempre interessante venire qua con gli amici a confrontarsi, a raccontare come raccontiamo l'ambiente, quali sono i problemi che ci tocca affrontare, con quali strategie, quali strumenti di comunicazione, veramente una bella iniziativa, sia dal punto di vista comunicativo, un tema che mi tocca da vicino, sia per chi come me non ha una formazione scientifica, avendo una formazione di scienze sociali, è sempre bellissimo confrontarsi con ingegneri, con chimici, con chi ha un approccio diverso ma che serve per completare la mia visione del mondo. Penso che anche per loro sia lo stesso, confrontarsi con sociologi, politologi, è sempre il modo migliore per mettere a sistema un patrimonio di conoscenze che non deve essere, come dire, circoscritto a singoli aspetti, singoli approcci nella visione del mondo. Senti, ho sentito parlare di eco-mafie, se non erro, nella parte finale della backup, tu sei un esperto, possiamo dirlo, redattore del rapporto per Lega Ambiente. Sì. Un altro tema, questo è estremamente difficile. Sì, è un tema attualissimo, un tema che chiama in campo responsabilità della classe dirigente, di questo paese, di come viene affrontato, anzi di come non viene affrontato e di come potremmo meglio affrontarlo. Anche questa edizione di Ravenna 2013 è servita in qualche modo per parlare di eco-mafie, per cercare di fare il punto e capire come meglio affrontare questo fenomeno. Noi, come Lega Ambiente, non possiamo che ogni anno certificare l'evoluzione di questo fenomeno che riguarda l'intero paese, l'intero territorio, non ci sono territori, come dire, estranei a questo tipo di fenomeno. Registriamo l'evoluzione dell'eco-mafie, registriamo che l'aggressione all'ambiente continua, sicuramente cambiano anche i modi di come affrontare questo fenomeno. Per cui, diciamo, essere qui serve anche a questo, per confrontarsi e capire come dare risposte coordinate e più efficaci. Abbiamo visto appunto che l'eco-mafie non si occupa, per esempio, di rifiuti soltanto visti come un costo, quindi non soltanto scaricati in ambiente, ma come anche sulla filiera del riciclo, la presenza della criminalità ambientale è forte, lo stesso dicasi nel ciclo del cemento, di come nell'agroalimentare filiere illegali siano sempre più presenti, quindi attentano il Made in Italy in maniera significativa, attentano alla salute umana, insomma, sono temi sempre purtroppo scottanti e attuali con i quali bisogna fare i conti e iniziative come queste servono in qualche modo per, come dire, condividere esperienze.